Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Swine HD Remastered. È un gioco uscito nel 2001 che vede con trapposte due fazioni davvero molto simpatiche, che sono i conigli e i maiali. Io ho visto il tutorial e i conigli sono francesi, quindi in questo caso farò i maiali. Ed è un gioco davvero molto carino perché è uno strategico in tempo reale, rimasterizzato in alta definizione, doppiato in italiano. Il 26 luglio, la Repubblica dei maiali. Ah, lo leggono gli... sono tedeschi, era ovvio, non volevo dirlo. Il popolo ha accolto con grande gioia notizia e durante il discorso celebrativo alla nazione, il primo agosto, Von Zahn ha detto al suo popolo che queste parole... Che swine dovrebbe essere un sinonimo di pig, quindi maiale. Perché su queste pianete ci sono popoli che hanno più carote di noi. Eh sì, si giocano le carote. Si consumano le zoccoli. Si consumano le zoccoli. Vabbè, siamo il cugino preferito del generale, dovrà assumere il comando di una piccola unità... Va bene, andiamo avanti. Graficamente il gioco è carino. I video sembrano più o meno essere rimasti forse quelli di una volta. Questi sono i nostri nemici, i conigli. E queste sono le unità gialle, col simbolo della carota davanti. Ha dei concetti molto interessanti questo gioco, adesso ve li farò vedere. Perché ogni unità ha una quantità di munizioni limitata e così come una quantità di carburante. E dovremmo gestire anche il rimorchio dei mezzi rotti, distrutti e ripararli. Va bene, vi faccio vedere... Il gioco costa 9,99 che è veramente poco, soprattutto se non avete giocato il primo. Comunque consiglio, gli elicotteri non sono invulnerabili. Allora, praticamente noi abbiamo... Vi spiego rapidamente. Abbiamo, non conosco ancora queste unità, però adesso ve le farò vedere. Praticamente qua abbiamo... non abbiamo punti. Praticamente avessimo punti tattica, diciamo, potremmo ordinare di rinforzi. Qua abbiamo la mappa, che possiamo andare a vedere. E qua abbiamo le nostre unità. Questa è l'unità di rimorchio, il tiramayali si chiama, è il veicolo da traino. Come abilità speciale, l'abilità speciale la vediamo sempre qui. E ha la possibilità di rimorchiare mezzi rotti, quindi quelli che vengono distrutti possiamo rimorchiarli, così come possiamo rimorchiare uno di questi due container. Questo container qui contiene riparazioni, credo, e quest'altra... munizioni, scusate, e questo riparazione. Quindi riparare i propri mezzi. E hanno una vita e una quantità di munizioni, diciamo. Quindi quando una delle nostre unità, se cliccate vedete la vita, le munizioni e il carburante, quando finiranno le munizioni noi prenderemo questa, con questo, lo traineremo vicino alla nostra unità, cliccheremo sopra, useremo l'abilità e riempiremo il, diciamo, osservatorio dei colpi delle munizioni. Stessa cosa vale per questo che sono le riparazioni. Ci sarebbe un terzo container, che qua però non c'è, che è quello delle munizioni. Poi abbiamo questo, che è la grande madre, è un'unità di artiglieria, che ha la possibilità di attivare, attivando la funzione speciale, mette dei fermi, diciamo, davanti e dietro, rimane ferma, e riesce ad attaccare molto lontano. Poi abbiamo queste unità, che sono i cinghiali, e sono degli esploratori, quindi hanno la possibilità di sparare normalmente. L'attacco normale. E qua invece abbiamo il pigbull, è praticamente un'unità che consente di, se non ricordo male, di bombardare... No, no, di andare sottoterra, addirittura. Questi qui possono muoversi sottoterra, sì. Sì. Poi ci sarebbe un'unità in grado di chiamare dei bombardieri, che bombardano... Eccola qua, l'unità, la barra di piombo, che è il veicolo del comando, che permette di bombardare spendendo dei punti tattica. In questo caso, questo l'ho mandato sotto. Adesso non so che cosa cambia effettivamente. Cioè, non permette di muoversi, però di proteggersi di più nel terreno. Quindi a questo punto selezioniamo le nostre unità, e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Possiamo ruotare la visuale. Siamo a Porakshire, e dobbiamo attaccare i nemici. Adesso vi faccio vedere altre cose. Ok, intanto facciamo una cosa. Prendiamo già con questo l'unità di riparazione. Vedete che faccio rimorchia. E clicco su questa adesso. E la rimorchia, vedete che poi possiamo portarla più avanti e ripararci i nostri mezzi. Ci hanno attaccato ma non vedo chi è stato. Ci hanno attaccato ma non ho visto chi è stato. Chi è che sta attaccando? Ah, è qua, è raccoperto. E stiamo giocando la campagna dei maiali, perché possiamo giocare anche quella dei conigli. Allora, praticamente vi faccio vedere come si ripara. Praticamente io adesso trascino questo qui. Quando lui verrà distrutto, rimarrà, diciamo, senza torretta, immobile, fermo e nel caso in cui lo riparassimo tornerebbe in vita. Vedete, adesso lo stiamo riparando. Allora, adesso lo stiamo riportando al massimo. Intanto questa unità consuma la sua unità, diciamo, le sue munizioni di riparazione. Ok, posto. Andiamo avanti. Vi faccio vedere adesso altre cose che le ho assunti alla fine di quello che viene spiegato all'inizio nel tutorial. Tutto è molto bello perché è tutto doppiato. Io ho fatto ecco i conigli, quindi parlano con la scento francese. Allora, ci sono diverse modalità. Queste sopra sono per l'unità di combattimento, servono per attaccare a volontà, attaccare solo se attaccati e non attaccare. Il movimento invece, questo qua praticamente è l'unità ferma, questa è l'insegui unità, cioè praticamente andranno incontro al nemico e questa la ritirata li farà scappare. Continuiamo con la nostra pulizia del territorio. Nel caso in cui dovessi beccare qualcuno in lontananza, proverò l'attacco con il bombardiere. Si possono distruggere anche gli edifici, quello che ho visto. Eccolo lì. Ritirata, ritirata. Vedete, io adesso prendo l'unità. Ah, non ce l'ho, non ce l'ho, mannaggia. Non ho punti di combattimento, quindi... Diciamo che questo non ha nulla a che fare con giochi come Close Combat, insomma, perché è molto scanzonato come titolo, però l'ho trovato divertente, ecco. Seguiti qui, che tra poco c'è qualcuno che ci lascia le piume. Ah no, ci attacca ancora dietro, che poi li vediamo solo se ci siamo girati, se c'è un'unità che vede quell'unità lì. Quindi, Questa settimana funerali gratis. Via, 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 l'unità di comando, via! È saltato. Niente. Niente, l'abbiamo proprio persa. Infatti ce l'hanno distrutte. Queste qui vanno distrutte perché possono essere riparate, ed è una cosa interessante. Ci hanno distrutto? Ah no, 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 ecco. C'è qualcuno che ha bisogno di riparazione? No. Nel multiplayer, perché al momento guardato non c'è nessuno che ci gioca, però, qualora ci giochiate con amici, lasciare dei carri armati che in queste condizioni possono essere riparati. Vediamo se è possibile riparare queste unità qui. Sì, vedete che li sta riparando. Però credo diventi poi un nemico. Adesso vediamo se c'è anche questa malsana meccanica dove potete rigenerare i nemici. O magari farlo vostro. Non lo so. Vediamo. Vediamo. Eh sì, li abbiamo riparato. Basta, basta, smettila, ti prego, vai via. Ok, lo portiamo fuori dal raggio. Questa è stata una minchiata che ho voluto provare per farvi vedere la riparazione dei mezzi da quasi distrutti. Però, abbiamo perso l'unità di comando, quindi non possiamo fare nessun tipo di incursione aerea. non abbiamo nemmeno soldi, non abbiamo punti tattici, quindi non possiamo ordinare di rinforzi. Le rinforzi sono previsti in alcune missioni, probabilmente non in questa. E dobbiamo... Questo si è incastrato. Aspettate qua. Faccio arrivare lui. Io non sono un appassionato di giochi di guarda, ma questo lo trovo veramente interessante. Vediamo di trovare altra gente. Là sembra esserci una trincea, quindi andiamo a vedere. Dovremmo anche provare a piazzare l'artiglieria in un punto tattico. Magari la piazziamo qua. Vedete che adesso si posiziona, ferma e può attaccare molto lontano. Quindi l'artiglieria non la mandiamo in mezzo, ma aspettiamo. Col tasto spazio possiamo mettere in pausa. Alt. Prendo questa e gli dico di attaccare qui. Vediamo se ce la fa. Sì, perché ha... Vedete? Può attaccare molto lontano. E siamo sotto un'artiglieria nemica. Alt. Pausa. Attacca questo. Dove sei parassita? Ok. Attacca questo. Ok. Ok, è andato. Continuate, continuate perché non voglio che li rimettono in piedi, eh. Bene. Merd. Eh, si sta attaccando vicino ma le sta subendo. Quindi intanto facciamo arrivare anche l'altra unità che abbiamo lasciato qua. Che la facciamo arrivare qui. Merd. Ci stanno attaccando con l'artiglieria qui. Dobbiamo andare là. Assolutamente. Vai, vai. Ah no, l'artiglieria possiamo lasciarla da lì. Ma intanto tu vai a riparare questo. No, 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 attaccate queste. Eh, l'abbiamo abbiamo giocato veramente male. Sì. Attacca da lontano attacca questi. Vediamo se già in assetto sì, sta già attaccando. Eh, sì. Ci hanno demolito praticamente tutto. Dove vai? Ci fuggi il gioco. L'abbiamo perso. L'abbiamo perso. L'abbiamo perso. C'è rimasta solo questa di unità. Ah no, ne abbiamo un altro anche qui. Sono un... Un'altra artiglieria anche qui. Niente. dobbiamo vediamo se ce la facciamo ma la vedo dura. Funziona speciale? Ah no, questo è quello che va sotto. No, 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 no. Niente, niente, niente. Tu potresti attaccare questo. Che pirla. No, dai, sganciati. Andiamo più avanti. Vieni fuori. E vieni qua. Dai. Non ci è rimasto moltissimo, eh. Quindi... Questo lo muoviamo qua. Questo lo muoviamo qua. Vediamo se riusciamo ad attaccare da qui con questo. Vediamo. Sì, ce la fa. Non so che auto sia questa ma sembra importante. Tu ripara. Vediamo quanto rimanca. Ok. Bene, 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 bene. Dai, che sta per saltare. Ok. Vediamo se c'è ancora qualcuno di là. Ebbene, ci stanno attaccando con un'artiglieria di non so dove. Eccolo. E intanto ci sta dando una mano comunque l'artiglieria da lontano. Quindi... Eccola lì, l'artiglieria. Artiglieria. Attacca questo. No, 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 no. Eh, sì. Ci abbiamo rimesso le penne. Dobbiamo andarci personalmente e... e vedere se riusciamo ad abbatterla. Comunque la partita è persa. Come sempre io negli strategici nei video cerco di far vedere tutto e la gioco veramente male. Però... magari adesso... Mi ha mancato... Due artiglierie ci sono. Vediamo se riesco a farla fuori, ma dubito perché è veramente troppo vicina. Eh, non attacca così vicino. Niente, siamo dei... Solo un pirla. Tra l'altro ho finito anche tutte le unità, credo. Perché ho ancora questa che potrei riparare. Vedete che me l'hanno lasciata in piedi. però non... Non ce la faccio, non ce la faccio. Eh, me l'hanno distrutta adesso quindi non posso più riportarla in vita. Niente. La partita è persa. Vi faccio vedere un'altra cosa. Vediamo. Vi faccio vedere. Qui c'è la campagna dei conigli. E' anche facile. Quindi ho proprio giocato allo sbaraglio. Giusto per fare... E' dall'altra parte, insomma. Quindi... Parte da tutt'altro... Tutto altro inizio. Insomma, col video di inizio della campagna dei conigli, i francesi. Inizio. E vedete che adesso abbiamo più o meno i mezzi... Passiamo vedere ai maiali chi è il migliore. Abbiamo dei mezzi. Questo qui. Che è successo? Questo qua è danneggiato. Non ha più munizioni. Quindi questo è l'inizio. E' tutt'altro inizio. Perché appunto ci sono i nemici di là. E abbiamo le nostre unità. Che sono la talpa. Che è quello che va sottoterra. Abbiamo il ficcanaso. Che è quello... E' un'autopera d'atacco normale. Che sono esploratori. Questo è quello che fa... Il saltafossi che è quello che ancora, diciamo, i vari carelli. E basta, credo. Perché non c'è altro. Ci sono due unità qua in alto. Che possiamo andare a... No, questo è quello di comando. No, infatti non è quello del traino. E' quello... Che permette la... L'attacco aereo. Però... Qua io non ho altro. Ci sono queste unità qui che sono... Posso rifornire qualcuno. Ma sono lontane. Mi serve qualcuno per trainarle. E vedete che qua abbiamo tutte le unità che sono rotte. Premondare a ripristinarle. Però, insomma... Il gioco sembra assolutamente ottimo. Quindi, ragazzi... Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Swine HD Remaster. 9,99 su Steam. Davvero intrigante. Se amate, poi ovvio non sarà uno strategico profondissimo. Come magari altri che si trovano, però... Io ho sempre trovato molto intrigante per quanto è inflazionato il tema degli animali nei giochi. Però, molto interessante. Fatemi sapere. E alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie.